Presidente, allora il dado è tratto, Gaetano Auteri è il nuovo allenatore del Pescara, Luca Matteassi il nuovo direttore sportivo. Sì, sono i due nomi nuovi che comporranno la parte più importante della squadra, perché uno la costruirà e l'altra la dovrà allenare, quindi sono loro due, sia Auteri che Matteassi sono già a lavoro per cercare di guardare quello che abbiamo in casa e quello che potrebbe servire. Come mai la scelta è ricaduta sul tecnico siciliano e sull'ex direttore sportivo del Modena? Con Matteassi abbiamo avuto un primo colloquio 15 giorni fa, eravamo negli uffici di domenica, negli uffici di Gabriele Bancoschi, che è il mio vicepresidente. Devo dire che ci ha fatto una bellissima impressione da subito, un ragazzo giovane, competente, ci siamo trovati veramente molto bene al primo incontro, ci siamo lasciati parlando già di una serie di eventuali allenatori che potessero fare al caso nostro. Noi gli abbiamo detto che Pescara in questo momento non potrebbe permettersi di fare ancora scommesse, nel senso di andare a prendere magari giovani emergenti, ma avremmo bisogno di un pochettino più di certezza. Abbiamo tutti e due insieme pensato che forse in quella lista Auteri avesse le caratteristiche che cercavamo noi, quindi un allenatore che conosce la categoria, un allenatore che l'ha già vinta diverse volte questa categoria, e quindi abbiamo convenuto di andare sul mistero. Con l'arrivo di Matteassi andranno via Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti, Presidente? Ma io sapete che a me gli addi non mi piacciono mai perché poi alla fine sono persone con le quali io ho lavorato, persone che ho portato io in questa società. Sicuramente non ci sarà Giorgio, ma non ci sarà Giorgio per il semplice fatto che Giorgio non può essere comprimario a nessuno, mentre Bocchetti farà la parte scouting, quindi lavorerà molto di più andando in giro, speriamo Covid permettendo, andando a vedere questi ragazzi che noi normalmente dobbiamo vedere su Wayscout. Nell'ultimo anno e mezzo è stato così, adesso cercheremo di recuperare il tempo perduto, mandando una persona di nostra fiducia in giro a vedere i giocatori. Presidente, si riparte con obiettivi ambiziosi, a Pescara non può essere diversamente? No, noi ripartiamo, gli obiettivi sono sempre stati ambiziosi, poi ci può riuscire, non ci può riuscire. Io sfido chiunque a dire all'inizio dell'anno scorso che la squadra che è retrocessa sarebbe retrocessa, però così è stato, quindi alle volte puoi partire con tanti ambizioni, ma poi alla fine in campo ci vanno i giocatori, ci devono mettere sempre qualcosa in più, la Serie C lo è ancora di più un campionato duro da questo punto di vista, quindi mi auguro di trovare alla base dei ragazzi che credano al progetto nostro e che vogliono dare tutto per ritornare dove il Pescara merita di stare. Lei auspica che il Pescara venga inserito nel girone B oppure il girone C o è la stessa cosa? Ma io non auspico niente perché poi di fatto si parla sempre di gironi pensando che certi gironi siano più semplici di altri, ma in realtà non è così perché ancora ieri abbiamo assistito ad un'altra squadra del Nord che è venuta in Serie B a discapito di tante squadre al Sud ben attrezzate per poter lottare per questo ambizioso traguardo, quindi noi dobbiamo costruire una squadra buona che poi qualsiasi sia il girone, oggi sulla carta dovremmo essere nel centro, geograficamente così come sono stati divisi i gironi dovremmo essere nel centro, però poi aspettiamo dove capiteremo e giocheremo.